C'è comunque da parte dei medici, purtroppo ancora adesso, ma perché? Perché gli ordini sappiamo che hai fatto riuscito. Questa umertà, questo insabbiare, non andarti a... Esatto, gli ordini ti fanno passare i guai se tu dici le cose come stanno. Diciamo bene, diciamo quello che è, cioè tutti i medici che sono così renitenti a dire le cause, oppure io ho sentito anche di gente che diceva sì, è morto per quello, ma io non posso scrivetelo sul referto perché se no passo i guai. Eh sì, in via Fuciosa è stato anche detto questo, certo, perché se no passo i guai. Quindi questo ci rendiamo conto del clima di soffocamento, non so come chiamarlo, di costrizione, di strangolamento che gli ordini fanno nel comune. Io, come collega, ormai sono in pensione, mi hanno già ampiamente punito e ho fatto sempre le mie rimostranze. Però di fatto ci si sottopone veramente a un'agonia da parte degli ordini dei medici, se dichiari quello che è la realtà. Perché poi statisticamente il discorso è mai conclamato. In Germania hanno fatto di recente una statistica dei morti fra i, mi pare, 14 e i 55 anni, sono aumentati negli ultimi due anni del 1900%, cioè 19 volte. Eh, dico, allora qualcosina forse c'è. Grazie di questo importanza, dottor Schicchi. Grazie mille. Grazie.